Si è concluso nel comune di Monbaroccio, in provincia di Pesare Urbino, il percorso di ascolto e di condivisione promosso dalla regione EPSR Marche, con quanti operano nel mondo agricolo e nel sistema rurale marchigiano. Un ciclo di cinque incontri terminato lo scorso 13 maggio al Convento del Beato Sante, che mira a dare voce ai territori che compongono, ognuno con le sue peculiarità, il sistema rurale marchigiano, in vista dell'emissione dei nuovi bandi del programma di sviluppo rurale, che grazie al cofinanziamento comunitario del Bienio 2021-2022, pari a circa 170 milioni di euro, potranno sostenere e sviluppare il territorio regionale. Queste risorse saranno destinate sicuramente per finanziare tutte le misure agroambientali del PSR, perché riteniamo che l'agricoltura debba cercare di ridurre il più possibile l'impatto della propria attività sul territorio, e oltre questo un'immagine della regione con tantissimi ettari coltivati per esempio a biologico sicuramente ne avrà un vantaggio. Parliamo di quasi 110 mila ettari di coltivazione a biologico nelle Marche e contiamo ancora di aumentarli. In questi due anni metteremo a disposizione per il biologico circa 50 milioni di euro, quindi sono somme veramente importanti. Oltre a queste misure, diciamo così, a tutela del territorio e anche a tutela della montagna, perché le indennità compensative per le aree montane ci servono per mantenere gli agricoltori nelle zone svantaggiate e montane. Il resto delle risorse, dicevo, il grosso lo metteremo a sostegno della competitività delle imprese, sia agricole che agroindustriali, in tutte le forme possibili, sia con domande singole, sia nell'ambito delle filiere. Un modo per rimettere al centro del dibattito pubblico l'agricoltura, coinvolgendo in maniera capillare tutto il territorio marchigiano, raccogliendo istanze per lo sviluppo rurale della regione. Abbiamo previsto diverse misure nuove, anche attraverso le filiere, l'agroindustria, vorremmo far ripartire filiere corte, vorremmo anche incentivare in modo importante il turismo rurale, quindi ci sono delle misure che si affiancheranno all'agricoltura, non solo a quella tradizionale, ma anche a quella tradizionale, cercando di stimolare e orientare la programmazione finanziaria verso un'imprenditoria un po' più evoluta, con una forza di essere ancora più competitiva rispetto al passato. Si conclude l'iter di trattativa per la prima modifica al PSR che varrà per due anni e presenteremo all'Europa un piano per sostenere la nostra agricoltura. Credo che questo sia anche un momento molto importante e proficuo di rilancio di tutto il settore per stare a fianco agli agricoltori che hanno voglia di investire, hanno voglia di rilanciare. Io tengo molto soprattutto al ricambio generazionale, quindi a coloro che vogliono intraprendere questa attività imprenditoriale, la Regione metterà al centro le loro esigenze e anche le loro aspettative, nelle modalità, nella burocrazia, cercando di semplificare anche un po' le cose. Un ringraziamento alla Regione Marche per aver scelto il Biazzo Sante e Monbaroccio, quale comune rurale per di più sotto i 3.000 abitanti, in quello che è il piano di sviluppo rurale regionale. Finalmente si torna nei piccoli comuni, nei piccoli centri che hanno una prospettiva importante, quella di un rilancio, un rilancio che viene dato da queste iniziative che vanno nella valorizzazione del territorio e del loro tessuto sociale ed economico. Grazie.